Cari amici, sono Pietro Diotti Camancini in Via Tagliamento 26 Roma e sono qui per parlarvi dei microscopi. Oggi vi parlerò dei microscopi educational, cioè di quella categoria di strumenti che è dedicata ai primi utenti, ai neofiti della microscopia, oppure ai giovani che si rivolgono a questo tipo di investigazione scientifica per la prima volta. Lo strumento di cui parleremo oggi è questo Microscope Kit della Celestron. È uno strumento economico, però di buona qualità e che fornisce delle prestazioni accettabili. Lo strumento è questo che vedete qui. È uno strumento molto semplice, come potete vedere, con un oculare zoom 10-20x che si aziona con questa ghiera. Vedete, è molto semplice nella sua costruzione, ha un revolver con tre obiettivi, i cui ingrandimenti sono 5, 15 e 30x. Se avete notato, ha due tipi di illuminazione, anche se in effetti sono tre. Quella dal basso e questa dall'alto con un suo interruttore indipendente, alimentate dalle batterie che vengono inserite in questo vano posteriore. In questo modo si inseriscono le batterie. Questo strumento ha anche un terzo modo, che è molto utile quando si sono esaurite le batterie. non si ha la possibilità di vedere. Avete uno specchietto riflessore che serve a riflettere la luce sotto al vetrino del preparato che stiamo per osservare e ci consente di fare una comoda investigazione. Nella scatola del microscopio troviamo anche una serie di 5 vetrini preparati, corredati da un'etichetta che identifica il contenuto, che possiamo inserire sotto questi due fermi. Inoltre ci sono due vetrini bianchi che possiamo utilizzare per preparare lo stesso dei composti da osservare. Ma cosa mettiamo sui vetrini? Abbiamo qui all'interno della confezione tre contenitori che al loro interno contengono dei preparati pronti già per essere osservati. Per tirare fuori dalla boccettina i preparati utilizziamo questa pinzetta sempre in dotazione. Ultima, ma non ultima, nella confezione è una telecamerina USB in risoluzione VGA. È una semplice telecamerina che va inserita al posto dell'oculare con la quale possiamo fare le nostre osservazioni e documentarle con fotografie o con filmati. inoltre abbiamo nella confezione il manuale in lingua inglese del microscopio, molto semplice, che consta di otto pagine, e un CD nel quale sono contenuti il materiale in versione multilingua e il software necessario per la gestione delle immagini compatibile con il sistema operativo Windows o con il sistema operativo Mac OS. Se questo filmato vi è piaciuto mettete like, se avete delle domande o richieste da farci scrivete sotto e vi risponderemo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi aspettiamo da Ottica Mancini in via tagliamento 26. Buona osservazione a tutti! Grazie a tutti!